MF Ecology, una vasta gamma di servizi offerti all'insegna dell'esperienza e della professionalità. Ci trovi a Cava dei Tirreni, in via Clemente Tafuri, numero 4. Sono aperte fino a domani, 23 settembre 2022, le iscrizioni per l'ammissione al gruppo volontari di protezione civile di Cava dei Tirreni. La domanda, da scaricare dal sito istituzionale www.protezionecivilecava.it oppure www.cittadicava.it, deve essere inviata al massimo entro le 12 di domani. Il gruppo volontari, ricordiamo, opera senza fini di lucro o vantaggi personali, quale organo strumentale del Comune nell'ambito della protezione civile, con attività di previsione, prevenzione, soccorso e ripristino in caso di calamità ed emergenze interessanti il territorio comunale o altre aree. Di questo ne abbiamo parlato con l'assessore alla protezione civile del Comune di Cava dei Tirreni, Germano Baldi. C'è stata l'esigenza di innovare adesso questo richiamo ai cittadini di partecipare al gruppo volontari della protezione civile. Già avevamo fatto un altro bando in corso dell'anno, si sono iscritti circa 10 cittadini, abbiamo bisogno di ulteriore forza e quindi faccio un appello ai cittadini di iscriversi al gruppo volontario protezione civile, che è un'esperienza bellissima, si dona qualcosa del suo tempo, si dona per il bene della città e si acquisiscono delle competenze e si fa anche una bella esperienza sia di socializzazione che di attivismo civile.